vi aspettiamo numerosi per questo nuovo appuntamento del San Giorgio's Festival il 19 gennaio con un trio di assoluta qualità Lorenzo Mazzocchetti Trio musicista originario di San Giovanni Catino con il suo trio molto attivo nell'ambito musicale bolognese San Giorgio's Festival il 19 gennaio 2020 grande interazione con il pubblico Lorenzo Mazzocchetti Trio Lorenzo Mazzocchetti al pianoforte Daniele Marrona al contrabbasso e Dario Rossiano Bateriano Appuntamento per domenica 19 alle 18.30 presso l'abitorium della scuola civica di San Giovanni Tiettino a San Buceto in piazza San Rocco ingresso gratuito San Giorgio's perché vogliamo valorizzare il territorio di San Giovanni Tiettino ma quando parliamo di territorio non parliamo soltanto del territorio in sé per sé ma di tutte le persone che lo vivono che ne fanno parte all'interno di questo di questa organizzazione c'è appunto un team di ragazzi giovani che vivono il territorio di San Giovanni Tiettino in particolare la bellissima realtà della scuola civica musicale sono appunto coloro che stanno curando questo progetto e parlo di del direttore artistico Cristian Caprarese e di coloro che lo stanno aiutando in questa organizzazione come Luigi Brasioli maestro della scuola civica musicale insieme a Giacomo Parone 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 a Giacomo Parone